Il 6 marzo alle 9 nell'uditorium di Via Puglia dell'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Mister Bianco si è tenuto l'incontro fra Giacomo Mazzariol, autore del libro Mio fratello rincorre ai dinosauri e gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle prime e seconde della scuola secondaria. Questo successo editoriale, conosciuto ai più anche per la trasposizione cinematografica nell'omonimo film, affronta i temi della diversità e dell'amore fraterno e lo fa senza mai perdere di vista la realtà, raccontando le difficoltà del quotidiano con estrema dolcezza e delicatezza. E' nato l'interesse delle case editrici, tra cui Einaudi che è stata l'unica che mi ha chiesto di scrivere da me il libro. L'evento svolto in collaborazione con il progetto editoriale Einaudi, lo struzzo a scuola, promosso dalla referente del progetto lettura, professoressa Alessandra Materia e sostenuto dalla preside dell'istituto, dottoressa Sabina Maccarone e dalla sua collaboratrice, professoressa Alfia Scaffidi, ha visto i ragazzi confrontarsi sul tema dell'inclusione e dell'accettazione della diversità. Il libro racconta la storia dell'amicizia fra Giacomo, l'autore nonché fratello maggiore di Giovanni, che ha la sindrome di Down. Dal dibattito è emerso che la diversità non va stigmatizzata, ma va apprezzata poiché essa arricchisce la nostra vita anziché minacciarla. L'evento ha visto inoltre la partecipazione del sindaco di Mister Bianco Marco Corsaro e dell'assessore alla cultura Dario Moscato, che hanno apportato il loro personale contributo condividendo con i ragazzi e i loro insegnanti l'arricchente esperienza.